ma la madonna ma quattro colpi in faccia gli ho tirato non è no quindi non sono entrati questo non ne sono entrati johnson sparato in faccia una volta mi ha dato hitmarker poi ho sparato ancora non ha dato niente vabbè anche questo entrato perfetto ma va di più dentro un colpo johnson non entram più gli va più dentro qui palese tirati tre qui siamo a posto procedere al prossimo settore io il tizio sdraiato per terra guarda come sta straiato l'almurida vieni johnson sei in zona ma sei proprio in mezzo al fuego c'è una combattura sul tetto adesso lo tiro giù io sul sul tetto solo hitmarker diciamo in cima in cima in cima eccolo li ecco dio il fumogeno quale latine ha lanciato il fuolo questi cazzo di fumogeno Sono efficaci Così infatti Quando soprattutto sto mirando Da una parte Che c'hanno lì Sono fuori di zona Chi è ancora il testo di cazzo Sul tetto Ma cos'è un fumogeno eterno Arco dio Sai cos'è Si stinta un po' Sì In alcuni punti Addirittura non si sdraia Perché esce cerchio Autoguarigione Che ti ha messo da parte Una cassa media Levatevi cazzo Che non vedo Vado su Bohemeno anche su Adesso Cariche piazzate Proteggetele fino all'esplosione Co dio Questo è proprio dietro Il carrello Il cartello Porco dio Ah no dai Un po' anch'io Con i fossili tattici Mi ha detto A pushare Comunque Bastardo Non riesco a buttarlo giù I nostri hanno distrutto Con l'obiettivo Con l'obiettivo Sto da spadaciare un po' di gente col veicolo Porco dio Mi ha colpito su un piede Ma ormai È stato incredibile Due ore che eravamo lì a spararci Io con la negretta di merda Di mezzo Era anche qualche ciccione brufolosa Sì Sì Grazie